Inaugurato a Crotone il nuovo e moderno centro medico-dontoiatrico dei fratelli Nicodemo e Vittorio Masotta che dopo la laurea hanno deciso di investire nella loro terra, dando così vita ad un sogno professionale che affonda le radici nell'amore per la professione medica ereditata da mamma e papà. Siamo felici di aprire qui oggi a Crotone, che è la nostra città, e quindi siamo anche orgogliosi di dare un contributo all'economia della nostra città. Fin da piccolissimi abbiamo frequentato gli studi dei nostri genitori, quindi siamo cresciuti nell'ambiente. Abbiamo preso le orme non tanto perché i nostri genitori venivano da questo ambiente, ma perché proprio a noi la materia e la professione ci appassiona. Un centro medico che punta a servizi di consulenza personalizzata grazie a tecniche all'avanguardia. Grazie al 3D e al software noi possiamo pianificare virtualmente quello che sarà l'intervento implantare, quindi andiamo a inserire tutti gli impianti virtualmente sul computer. Una volta effettuata questa pianificazione virtuale si invia il file a un centro laboratorio, un centro di fresaggio e ci produrranno una mascherina. Questa mascherina si appoggia sulle ossa mascellari del paziente e su questa mascherina ci sono dei fori, attraverso cui noi andiamo a inserire gli impianti, quindi siamo guidati a inserirli in altezza, in inclinazione e non possiamo sbagliare. In questo modo andiamo a riprodurre fedelmente quello che è stata la pianificazione virtuale, andiamo a riprodurla fedelmente sulle ossa del paziente. Il dato veramente favorevole per il paziente, oltre alla precisione dell'intervento, è che in questo modo si evitano quindi i tagli e si evitano quindi anche le suture. Formazione fondamentale, ma fondamentali sono anche i rapporti di collaborazione che voi avete mantenuto con l'Università dell'Aquila. Effettivamente noi abbiamo mantenuto i nostri contatti, sia io che mio fratello, subito dopo la nostra laurea abbiamo continuato a mantenere i nostri rapporti con l'Università degli Studi dell'Aquila, effettuando un master in ortognatodonsia e un master in odontetria pediatrica. Tutto questo grazie anche alla collaborazione diretta con il direttore di facoltà, il professor Roberto Gatto, il quale lo ringraziamo della stima ricambiata sia mia e di mio fratello. Il paziente è al centro di un servizio attento e rigoroso, frutto di una costante formazione e tecnologie di ultimissima generazione. La filosofia del nostro studio è quella di offrire solamente e esclusivamente prestazioni di altissima qualità e prestazioni di eccellenza. Noi non ci piegheremo mai a quelle che sono le logiche commerciali che purtroppo da un po' di anni a questa parte sono entrati a far parte della nostra professione screditandola. Bensì il nostro pensiero è solo quello di offrire eccellenza ai pazienti perché la soddisfazione dei pazienti è la nostra soddisfazione.